Le criticità e le gravi difficoltà che attanagliano il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, il sindaco Franco Micichei interroga il commissario dell'azienda sanitaria provinciale, Mario Zappia. Buongiorno, oggi mi trovo qui nella sede dell'Asp, sono venuto a trovare il commissario, il dottore Zappia, relativamente alla manifestazione che il giorno 17 scorso abbiamo fatto lungo le vie della città e poi terminata in prefettura, proprio sulle criticità del nostro pronto soccorso, un pronto soccorso che è spesso e carente, la gente soggiorna diversi giorni lì per avere una risposta sanitaria, quindi chiedo al dottore Zappia quali sono veramente le criticità e quali sono le migliorie da poter apportare nell'immediato. Allora intanto ringrazio il sindaco per la delicatezza che è consueta, non è una novità per lui perché anche quando ci sono delle problematiche abbastanza pesanti nelle telefonate che fa riesce sempre a mettere la determinazione assieme all'educazione, questo penso che sia un merito di cui non lo riconosco io solo, per quanto riguarda il pronto soccorso vorrei rassicurarlo, però capite bene che questo è uno dei problemi principali dell'organizzazione sanitaria della nostra provincia e ovviamente tutti capiscono che noi le abbiamo provate tutte, la cosa che salta agli occhi è che l'unico problema che noi abbiamo su 5 pronto soccorsi è che abbiamo l'agrigente, a Canicattini per esempio con metà di personale non hanno mai avuto problemi per la gestione, ovviamente fanno meno numeri ma il servizio va garantito sempre con il personale in campo, comunque lasciamo stare e scendiamo su agrigento, caro sindaco noi le abbiamo provate tutte, però a oggi tutto quello che è stato fatto significa bandi deserti per quanto riguarda le assunzioni, un bando sempre aperto, abbiamo preso i pensionati, abbiamo aperto i pensionati, una persona l'abbiamo trovata per Licata, speriamo di trovare qualcuno anche per agrigento perché adesso abbiamo in attesa altre risposte per quanto riguarda il pronto soccorso agrigento, un'ulteriore disponibilità si potrebbe avere con il proseguimento dei lavori che sapete che non è di competenza nostra, ma noi abbiamo sollecitato il commissario regionale per fare questi lavori ed è proprio di ieri questa notizia che penso che settimana prossima potrebbe riaprire il cantiere per la parte che è adiacente al pronto soccorso attuale, cosa faremmo noi? Otterremo degli spazi maggiori e consentirebbero di essere meno accalcati là dentro, questa è stata una sollecitazione che il sindaco subito dopo la manifestazione del 17 mi aveva fatto, dice almeno per quanto riguarda i lavori cerca di vedere se ci sono le possibilità anche se non dipendono da noi e questo è un dato oggettivo quindi non possiamo che riconoscerlo tutti. Ulteriore miglioramento si potrebbe avere con la disponibilità che hanno dato i medici interni, per esempio il professor Schumet e il dottore Caramanno hanno consentito al di là degli ordini di servizio che erano stati fatti e sono abbastanza antipatici da ricevere, hanno consentito per il bene dell'ospedale e per il bene della nostra collettività di dare altri 10 turni ciascuno per il pronto soccorso, il concetto fondamentale del pronto soccorso non è un problema della direzione, del sindaco o di altri, è un problema di tutti noi, se tutti noi collaboriamo ce la facciamo, noi le abbiamo provate tutte, siamo sempre disponibili a provarne altre. Grazie.